Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Questa sera voglio parlarvi sempre di qualcosa in tema di risparmio energetico. Ecco, si tratta di uno scaldacqua istantaneo. La marca è la Stibeneltron, è un'azienda leader nella produzione di questo tipo di apparecchiature. Sostituto alla tecnologia antica degli scaldabagni, diciamo di vecchia generazione, quelli ad accumulo. Funziona solo nel momento in cui voi aprite il rubinetto. Non c'è accumulo, non c'è perdita di corrente, non c'è perdita di energia elettrica. Io l'ho comprato circa tre mesi fa per sostituire il mio scaldabagno di vecchia generazione del mio ufficio perché avevo bisogno di utilizzare l'acqua molte volte al giorno, però per brevissimi periodi senza dover inutilmente scaldare l'acqua per tutto il giorno, che è quello che succede con lo scaldabagno ordinario. Quindi la sua funzione principale è quella di farvi risparmiare un sacco di corrente. Prima di iniziare con la recensione, mi raccomando, se questi video ti piacciono, iscriviti, lasciami un commento, lasciami un like e soprattutto non dimenticare di attivare le campanelle per essere avvisato ogni volta che vado a pubblicare i miei video. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Come ho già detto prima, questo prodotto consuma solo e esclusivamente quando azionate il rubinetto, quindi non c'è perdita di corrente quando non viene utilizzato. Certo, non può sostituire uno scaldabagno elettrico da 80 litri per un'esigenza magari di una famiglia di 4 persone, ma è utilissimo in tutte quelle situazioni tipo, che ne so, un ufficio, un magazzino, un laboratorio, ma anche la cucina. Per esempio, nella cucina non abbiamo bisogno di grandi quantità di acqua calda, abbiamo bisogno però di attingere l'acqua calda molte volte al giorno e spesso dobbiamo utilizzare, in assenza di una caldaia, quei piccoli scaldabagni da 10 litri che praticamente non servono a niente perché la riserva finisce praticamente subito, ma che comunque restano accese tutto il giorno, facendoci spendere anche 3-4 euro solo per portare l'acqua in cucina. Lo scaldabagno che avete tuttora in casa funziona con il sistema del termostato resistenza. Ogni volta che la temperatura dell'acqua scende sotto la soglia limerete che avete impostato, che può essere 50-60 gradi, il termostato comanda la resistenza di accendersi e scaldare nuovamente l'acqua e questo praticamente succede per tutto quanto il giorno. L'acqua all'interno dello scaldabagno si raffredda in intervalli regolari a seconda poi di quella che è la temperatura esterna, quindi se magari avete uno scaldabagno in una soffitta o in un posto che non è riscaldato, l'acqua si raffredda molto più velocemente facendovi spendere ancora più energia. Pensate invece che un prodotto di questo genere voi potete azionarlo 50-100 volte al giorno e il risparmio energetico è davvero sostanziale perché è vero che chiaramente non vi dà la pressione, non vi dà la temperatura che vi può dare uno scaldabagno ordinario, però vi fa spendere corrente soltanto nel momento in cui voi azionate il rubinetto, quindi per quei 50-60 secondi utili per lavare le mani o per qualsiasi altra esigenza che chiaramente non sia quella di una doccia. Sì, perché questo chiaramente prodotto non può essere assolutamente utilizzato per sostituire lo scaldabagno con cui vi fate una doccia. Parlando per esempio di uno scaldabagno da cucina da 10 litri, una volta che avete consumato i 10 litri che poi diventano 20-30 seconda chiaramente della mescolanza con l'acqua fredda, la dovete aspettare circa 40-50 minuti per poter avere un'altra volta l'acqua calda. Questo è un prodotto invece che non ha limitazione in termini di erogazione di acqua, se sta acceso per un'ora continua a fornirvi di acqua calda. La casa produttrice assicura un aumento, come dire, un vantaggio di temperatura in termini di 25 gradi, vi assicuro che la temperatura è esattamente 25 gradi in più di quella di ingresso, quindi se avete un'acqua a 10 gradi per esempio nella vostra cucina ve la porta a 35 gradi, che in inverno è più che sufficiente per potersi lavare le mani tranquillamente senza nessun tipo di problema. Questo test l'ho fatto negli ultimi tre mesi nel mio ufficio e vi assicuro che la differenza col vecchio scaldabagno non l'ho notata, però l'ho notata tanto in termini di spambio energetico in bolletta, perché mentre prima tenevo acceso tutto il giorno il mio scaldabagno da 10 litri per potermi lavare le mani, adesso con questo io spendo corrente solo nel momento in cui utilizzo effettivamente l'acqua. Mi raccomando poi, se vi interessa un video specifico su come si installa, fatemelo sapere nei commenti. L'installazione è davvero semplicissima, ci sono, vedete, due raccordi, questi se non sbaglio sono da tre ottavi, acqua fredda e acqua calda. Qui praticamente entra il flessibile che va alla parete, da dove praticamente dovrebbe arrivare l'acqua calda dal vostro boiler. Da qui invece parte un altro flessibile che va al vostro miscelatore. Per quanto riguarda in connessione della corrente c'è questa semplicissima scivola. Qui c'è un cavo da circa 50 cm, ora ve lo apro così vi faccio vedere quello che c'è all'interno. Qui ci sono praticamente due viti che ho già rimosso e che tengono praticamente firma questa che è la plastica frontale. Il meccanismo viene azionato dalla pressione dell'acqua, quindi appena aprite il rubinetto si accende, appena chiudete il rubinetto si spende. Qui c'è un cavo, questo è un cavo tripolare con cordine da 1,5 mm, terra neutro fase. Semplicissimo. Qui dentro c'è una sorta di circuito stagno, l'acqua entra da qui, viene riscaldata praticamente, come si dice, live in diretta e purtroppo molto lentamente esce da questa parte. La portata è di 2 litri al minuto. Considerate che di solito il flusso di un rubinetto di un appartamento è intorno agli 11 litri, con l'installazione di un areatore e non vi accorgete praticamente della differenza. Dietro invece c'è praticamente la placca che sede all'installazione della parete. Si apre così, alzando questa lingua bianca, e qui basta semplicemente fare i fori nella parete, quindi si collega la placca al muro, qua si incastra sul corpo principale e qua si può rimettere il coperchio di plastica. Parliamo invece di consumo energetico. Allora, la casa produttrice dichiara un consumo di 3,2 kilowatt, siamo intorno ai 14,5 ampere, quindi il consumo è davvero molto alto. Ecco perché prima vi ho già consigliato di installarlo su un impianto con una portata ad almeno 6 kilowatt. Inoltre deve essere un impianto, diciamo, con dei cavi buoni, perché l'assorbimento, come vi ho detto, è piuttosto alto. Però considerate che comunque un assorbimento alto, ma momentaneo, quindi per periodi molto brevi, non è nemmeno paragonabile invece a un assorbimento magari da 1.500-2.000 watt di uno scaldabagno, che invece per riscaldare l'acqua sta acceso 2, 3, 5 ore al giorno. Vi assicuro che da un punto di vista energetico è completamente differente. Per quanto riguarda invece l'uscita dell'acqua calda, siamo intorno ai 40 secondi. Chiaramente, come ci ho detto prima, dimenticatevi la temperatura dello scaldabagno. Lo scaldabagno vi porta una temperatura dai 50 ai 70 gradi. Questo prodotto vi può portare a una temperatura fino ai 40 gradi. Tutto dipende però dalla temperatura dell'acqua d'ingresso. Per quanto riguarda poi la pressione dell'uscita dell'acqua, siamo intorno ai 2 litri al minuto. Considerate che la pressione normale di un rubinetto è intorno a 11 litri, quindi la pressione effettivamente è molto bassa rispetto a quella a cui siamo abituati. Però, con l'utilizzo per esempio di un areatore, vi metto in alto a destra il link per farvi capire di che cosa si tratta, ci ho anche fatto un video specifico, è possibile quasi dimenticarsi di questa differenza. Questo è un prodotto che vi consente di risparmiare moltissima corrente in tutte quelle circostanze però nelle quali è possibile scendere a compromessi. Se vi interessa poi un video specifico su questo areatore, vi metto sempre a destra il link per andarvela a vedere. Prima vi ho parlato del fatto che questo scaldabagno istantaneo è dotato di questo cavo, che è un cavo con tre cordine da 1,5 mm quadri. Se lo volete cambiare perché magari avete bisogno di allontanarlo dal rubinetto, volete fare un'installazione di un altro tipo o magari semplicemente volete dotarlo di un cavo di sezione maggiore, io vi consiglio almeno un tripolare con cordine da 2,5 mm quadri. Chiaramente vi metto in descrizione il link per questo tipo di cavo. Parliamo adesso invece della protezione dalla corrente. Abbiamo detto che è un prodotto che funziona sia con acqua e corrente nello stesso contesto, quindi secondo me la cosa migliore è dedicargli una linea, quindi una fase neutro e terra propria, quindi dal collegamento fino al quadro elettrico e al quadro elettrico montargli un bel magnetotermico differenziale, quindi non semplicemente un magnetotermico, in modo che avete anche la protezione dalle dispersioni. Un bel magnetotermico differenziale, l'abbiamo detto, da 16 A, vi metto chiaramente in descrizione il link se volete approfondire o se lo volete acquistare. Normalmente i magnetotermici differenziali sono da 30 mA, per prodotti di questo genere è consigliabile addirittura un magnetotermico da 10 mA, quindi ancora più sensibile a dispersioni, però costa molti soldi, circa un centinaio di euro, quindi vedete voi se ne vale la pena. Io comunque vi metto il link in descrizione. Ultima cosa, la protezione dal calcare. Questo è un prodotto che è collegato praticamente all'acqua tutto il giorno, quindi a differenza della durezza dell'acqua nelle varie in zona d'Italia, dopo un anno potrebbe avere dei problemi di intasamento per il calcare. E già, visto che già la pressione non è proprio il suo forte, se si va a sedimentare del calcare all'interno diminuisce ancora maggiormente. Quindi magari se c'è qualche idraulico che vuole darci qualche consiglio nei commenti per inserire, che ne so, qualche valvola, qualche filtro che possa diminuire o annullare la presenza del calcare dell'acqua, sarebbe sicuramente un ottimo upgrade da fare su un prodotto di questo genere. Allora, per oggi il video termina qui. Se ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti, non dimenticare di attivare le campanelle per essere avvisato ogni volta di nuovo il video che vado a caricare. Un saluto da Fabio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!